Meccanella Meccanella Massimilano, raccontaci le sensazioni, le emozioni di essere qui Beh, le emozioni sono, direi, moltissime È la prima volta che facciamo la targa a Florio È la prima volta che mia moglie fa da navigatrice E quindi sarà solo un grande divertimento E quindi sarà solo un grande divertimento Questa edizione della targa a Florio Il nome di Nino Vaccarella, sai, io siciliano come lui È stata una grande emozione In qualsiasi posto andavi in questa gara Trovavi sempre le tue immagini, qualcuno che ne parlava Sai, molto emozionante e molto bello Con il top driver Mario Passanante, equipaggio Mafra Devo dire che questa è stata un'annata particolare Intanto con questa gara io vinco il campionato italiano grandemente E questa è una cosa che mi orgoglisce tantissimo Perché è un risultato veramente che non mi sarei mai aspettato Ovviamente il mio ringraziamento va al team Mafra Che mi ha permesso di essere qua a questa manifestazione In Ziena, tutta questa bella gente Sì, per voi il via I campioni italiani, i grandi eventi Mario Passanante, Mario Moretti Grazie a tutti Seconda posizione di Targa Placastica overall Uno dei team che vede Il grande team di Sicilia Numero 102 Mario Passanante e Mario Moretti Mario Passanante e Mario Moretti Grazie a tutti Grazie 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 a tutti